Allora, buonasera a tutte e tutti e tutto. Direi che possiamo iniziare questo quinto appuntamento del calendario di eventi ed iniziative organizzate dal centro di documentazione Lorusso Giuliani e VAG61 in collaborazione anche con Zapruder, Pratello Resiste e Supporto Legale. Faccio prima un attimo una comunicazione per quanto riguarda i bagni, si può uscire appunto da questo cancello e andare su, ci sono le segnaletiche. Giusto per fare un'introduzione. Non mettete piede! Va bene. Grazie. Allora, questa sera appunto presenteremo la redizione dell'ontologia Nessun rimorso, edita dalla Coconino Press. Adesso vorrei spendere due parole sulle iniziative comunque che il centro di documentazione VAG61 hanno organizzato, ma in generale anche sul ventennale di Genova. Inizierei comunque facendo una breve introduzione dicendo che personalmente non ero a Genova a quei tre giorni perché in quegli anni avevo avuto più o meno sette anni e quindi diciamo che la mia esperienza personale agli eventi del G8 sono avvenute successivamente quando ho appunto iniziato a far parte del mio primo collettivo politico e ho iniziato a fare militanza. E diciamo che anche questo approccio avvenne più o meno 9-10 anni dopo dal 2001, quindi sempre comunque tardi, ma la questione di Genova era ancora molto dibattuta ed era ancora molto forte. A pensare comunque al pre-Genova, a Genova, le giornate e anche al post-Genova ci sono stati degli anni di silenzi o di verità addomesticate, ma nei luoghi di militanza comunque si è sempre conservata la memoria e si è continuato comunque a dibattere sui temi portati in piazza dai movimenti presenti allora. Ogni anno, come il centro di documentazione, lo russo Giuliani e come Vag61 abbiamo portato avanti con l'organizzazione appunto di eventi e di iniziative la memoria di Genova per non spegnerla. Ed ogni anno comunque ci siamo rese conto che gli anniversari sono un problema. La retorica comunque può contaminare la storia e le storie e forse anche distoglierci dalla voglia di raccontare e capire ciò che è stato un grande movimento. Un movimento che comunque si è, diciamo, susseguito non soltanto nelle tre giornate ma anche a partire dal 15 e dal 16 di giugno con i movimenti femministi, con il punto G e poi con il 19 con il movimento dei migranti. Ecco, il movimento di Genova è stato un movimento che ha messo al centro del suo percorso politico migliaia di iniziative attraverso i social forum ma anche decine di temi che hanno attraversato diversi paesi del mondo, dal clima al disastro ambientale, alle questioni relative alle guerre, al femminismo, alla salute, alle questioni relative al carcere e alle brutalità repressive. ovviamente è ingeneroso fare un elenco di tutte le tematiche che sono state portate con appunto anche il timore di dover dimenticarne alcune ma sono comunque problematicità che tuttora sono presenti e che ancora oggi vengono portate avanti attraverso le lotte. inoltre il periodo storico che abbiamo affrontato e da cui forse stiamo uscendo ha evidenziato ulteriormente comunque non soltanto l'attualità di queste tematiche ma a nostro parere neanche sotto un leato la complessità dell'approccio e le pratiche messe in campo. Abbiamo pensato dunque con questa serie di iniziative ed eventi di ripercorrere un viaggio, un viaggio fondamentalmente per raccontare ciò che nessuna inchiesta giudiziaria racconterà o che la gran cassa mediatica si terrà ben dall'accennare. È un viaggio che vuole affrontare Genova collettivamente senza divisioni tra buoni o cattivi. Questo perché comunque i movimenti non spariscono nel nulla e molte idee comunque hanno continuato e continuano a vivere nelle pratiche politiche quotidiane. In questo frangente penso ai movimenti Notab in Val di Susa, penso a Nuna di Meno, ai Notab, alla solidarietà per la Palestina e per il Rojava. Penso anche ai picchetti contro le multinazionali, contro la precarietà del lavoro e nella vita. Penso al contrasto del caporalato nelle campagne. Ricordare Genova significa significa anche ricordare come lo Stato si è posto e si pone tutt'oggi in maniera vendicativa nei confronti dei movimenti. Stiamo ancora oggi vivendo comunque la caccia agli spettri degli anni 70 o anche al carcero stativo per le detenute e le detenute. Ricordare Genova significa anche ricordare i compagni e le compagne che hanno scontato le pene in carcere e che tuttora le stanno scontando e quindi penso a Luca Finotti che a pochi giorni dal ventennale è stato riportato in cancere per continuare a scontare la sua pena. Penso anche a Vincenzo Vecchi che vuole essere stradato dalla Francia. Il lavoro di documentazione è un lavoro importante perché comunque evidenzia non soltanto queste sfaccettature ma va anche di evidenziare come chi cerca di ricostruire anche con rigore storico determinati eventi viene comunque visto e trattato come un bandito. Penso anche al sequestro del materiale sul caso Moro che è avvenuto poco tempo fa nei confronti di Paolo Persichetti. Quindi da Genova abbiamo assistito e assistiamo tuttora a una vera e propria persecuzione, a una vendetta di Stato contro chi insieme a migliaia e migliaia di persone si è voluto opporre ai vertici del Giotto e alle barbare neoliberiste. Ecco per tutto questo nelle iniziative che abbiamo organizzato e che comunque continueremo ad organizzare abbiamo scelto una narrazione senza enfasi, un modo per provare a raccontare e non solo a raccontarci il nostro presente. Grazie. Applausi per se sei come voi. Applausi per se sei come voi. Allora, a questo punto lascerei la parola a supporto legale per l'introduzione della serata. Grazie. 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 Grazie a tutti e tutti per l'invito. faccio parte di supporto legale, questo gruppo di compagni e compagne che a cavallo tra il 2004 e il 2005 si è auto-organizzato per rispondere innanzitutto alla richiesta dell'allora segreteria legale perché serviva una mano proprio pratica per svolgere tutta quella mole di lavoro che c'era intorno ai tre processi principali, quello alle 25 il processo Diaz e Bolzaneto e di pari passo c'era anche il processo alla rite del sud dei ribelli di cui ormai si è persa traccia ma che portò all'epoca a diversi arresti che per parecchi anni, per diversi anni ha tenuto diverse persone sotto processo. Noi nasciamo, chiaro ha detto abbastanza molto di quello che siamo, noi nasciamo sotto questa richiesta, eravamo una costola di Indimedia, la richiesta all'epoca fu fatta all'interno del collettivo di Indimedia Italia durante un Indimedia Nazionale, pochi mesi dopo ci siamo staccati come è giusto che fosse componendo questo gruppo autonomo che si è occupato prima di tutto della difesa dei dei e delle 25 perché ci sembrava il processo più urgente per noi e poi abbiamo aiutato ovviamente la difesa nel costruire l'offensiva per quanto riguardava i processi Diaz e Bolzaneto. Uno dei motivi, uno dei collanti che ci hanno tenuto uniti politicamente in questi anni, come è stato già detto, è stato quello là di superare la dicotomia buoni e cattivi che già dal pomeriggio del 20 luglio travolse buona parte dell'opinione pubblica e anche dei movimenti creando quel clima che molti di noi ricordano o riconoscono visto che vedo parecchie facce dell'età mia, della mia stessa generazione, quindi ricorderete benissimo il dibattito che si portò in avanti in Italia per diversi anni appunto quella di questa fatidica dicotomia l'altro punto che il nostro collante oltre a questo era la difesa indistinta di tutte e 25 le persone denunciate e denunciate e poi attenzionare tutte e tutti, è quello che ho appena detto però va bene. Comunque no, sorpassando qualsiasi altro ragionamento, però mi ha fatto perde, grazie, qualsiasi altro ragionamento l'altro punto era creare una campagna contro l'articolo 419, quello di devastazione e saccheggio che per diversi anni ma fino all'altro ieri continua a essere una clave non indifferente contro i movimenti e non solo, l'ultima volta che ho sentito, che ho letto che si parlava del reato di devastazione e saccheggio era per alcuni ragazzi che durante le proteste anti coprifuoco dell'ottobre scorso, se non sbaglio, a Torino in seguito di danneggiamenti di alcune vetrine in centro sono stati arrestati e l'accusa che pende su di loro è quella di devastazione e saccheggio. Non vi starò a fare tutto il racconto dell'accusa di devastazione e saccheggio perché è anche abbastanza semplice da andare a spiegare, comunque è un reato che porta da un minimo di 7 anni fino a 15 anni, cosa che poi è successo per le 10 condannate. Le 10 persone sono state condannate a un totale di 100 anni, quindi no, è una media di circa 10 anni a testa, la pena minima fu di 7 anni e qualcosa fino ai 14 anni di Jimmy. Sempre per tornare nell'ordine delle idee, anche per dare dei numeri, ad esempio quando nel 2012, prima della Cassazione, Radio Onda Rossa lanciò la campagna a 10% a cui noi come supporto legale aderimmo, uno dei messaggi che passava e che abbiamo fatto poi passare negli anni precedenti e successivi era che lo Stato dimostrava che qualsiasi reato contro la proprietà era comunque un reato molto più grave di quelli contro la persona. Per farci capire, 7-15 anni, qualsiasi persona che ne sa uno straccio di giurisprudenza sa che neanche con un omicidio colposo riesce a raggiungere pene del genere. Non voglio arrivare ad altri esempi un po' più disgustosi come la violenza sulle donne, ma anche semplicemente un omicidio colposo o anche il pretene intenzionale forse si avvicina con le pene a quello di devastazione e saccheggio, però dal 2001 in poi un reato che era stato sepolto dall'ordinamento giuridico di questo paese, neanche negli anni 70 che sono stati anni di rivolte e anche di proteste dure, era stato mai agitato contro i movimenti, qualsiasi di organizzazione e reato di devastazione e saccheggio. Questo è il lavoro che ci ha accompagnato in questi ultimi 16-17 anni e che ci ha accompagnato prima attraverso un lavoro pratico di supporto agli avvocati e alle avvocate che hanno lavorato per i processi di Genova e poi appunto sostenendo la campagna in difesa e di solidarietà nei confronti delle persone condannate di cui tuttora stiamo cercando di prenderci cura. Tutto ciò che abbiamo prodotto in questi anni fino al fumetto e fino appunto a quest'ultimo fumetto è proprio di benefit riguardo i compagni e le compagne che tuttora stanno scontando la pena. C'è Vincenzo che si trova in Francia con l'Italia che sta cercando da due anni di riportarlo nel nostro paese per fargli scontare i 13 anni che lo aspettano. C'è Luca di cui ha raccontato appunto poco fa e poi c'è Jimmy che si trova ai permessi lavorativi, non sta in carcere però vive ancora in un regime di restrizione. Io voglio anche andare a ricordare che delle 10 persone condannate oltre a Vincenzo anche Jimmy e Luca furono arrestate al di fuori del nostro paese. Se pensate che la Cassazione è arrivata nel 2012, stiamo nel 2021 quindi 9 anni dopo la Cassazione e ben 20 anni dopo i fatti di Genova siamo ancora con diverse persone che stanno pagando per quello che è successo a Genova e stanno un po' pagando per tutte e tutti per tutto ciò che è successo in quelle strade. Questi sono stati un po' i nostri ragionamenti che ci hanno portato a formarci e a fare questa campagna che dura da molti più anni di quanto avremmo immaginato ma noi appunto esisteremo fino al giorno dopo e l'ultima persona avrà scontato, avrà figlio di scontare la pena. Questo è abbastanza semplice, ormai ci siamo presi questo impegno e lo stiamo portando avanti. L'idea del fumetto per tornare poi alla serata di stasera, non solo, l'idea del fumetto nasce da un'idea, da un'altra edizione che il 2007 facemmo che si chiamava Genova vs G8 di cui una parte di questo volume è proprio composto dall'allora fumetto, un fumetto molto diverso da questo di quest'anno, di 14 anni dall'allora Genova vs G8 che noi facemmo, una sorta di autoproduzione a cui ci appoggiamo alla NDA per la distribuzione che facemmo fondamentalmente grazie all'idea, l'idea iniziale che porto avanti di Alessio Spataro. Mentre quest'altro volume abbiamo voluto fare un passaggio un po' diverso, sarà che il regime di pandemia, di restrizioni, di coprifuoco, di chiusure che ci hanno accompagnato in quest'ultimo anno e mezzo quando ci siamo ritrovati a ragionare mesi fa su come far tirare fuori qualcosa di nuovo che ci accompagnasse per questo ventennale abbiamo pensato che l'unico modo possibile e immaginabile era appoggiarci ad una casa di trice che tra l'altro vive facendo questo, ossia fumetti. Devo ammettere che il trattamento avuto con la Coconino Press è stato un trattamento che a nostro avviso è impeccabile, ci hanno consentito di portare avanti e di controllare tuttora qualsiasi virgola che c'è all'interno del fumetto, anzi non c'è niente che noi non abbiamo voluto, noi non hanno minimamente messo bocca nei contenuti che ci sono all'interno del fumetto e anzi anche attraverso la figura di Oscar che per Coconino lavora e che è stato prezioso per comporre un volume che a noi piace molto e siamo anche molto contenti di venerlo a presentare e di portarlo in giro per l'Italia, abbiamo iniziato qualche giorno fa da Roma e di portarlo in giro per l'Italia attraverso gli autori e le autrici che a seconda della città che attraversiamo ci accompagnano. Oggi ne abbiamo diversi, andremo magari anche a dialogare con loro, tra l'altro diversi anche per generazione perché qui passiamo da Samuele che ha 25 anni, io ora non so l'età degli altri, io sono sicuro che ho il doppio di età di Samuele quindi già mi sento di una generazione un po' diversa. Michele che è quello che continua a far Pischiello non è che sta troppo lontano dai 40 anni quindi l'età passano e quindi ci sta questo incontro che è avvenuto proprio all'interno delle pagine di questo fumetto che poi se noi come supporto regale quello che andiamo sempre a raccontare è che noi non vi parliamo di Genova, non vi raccontiamo le giornate genovesi perché poi noi supporto regale nel 2001 non esisteva, noi eravamo compagni e compagni che facevano parte dei loro percorsi di allora che hanno fatto cose completamente diverse e ci interessa anche poco tra di noi stare là a confrontarci su quelle giornate e non perché non abbiamo un'idea su quello che è successo, non possiamo fare una somma di quello che è successo, ma a noi ci interessa molto e ci è interessato molto quello che è successo dopo e di raccontare quello che è successo dopo. Nelle pagine invece di questo volume ci sono anche racconti di chi c'era a Genova fisicamente, di chi ha visto a Genova e ha partecipato alle manifestazioni o anche racconti di chi a Genova non ci è andato per un discorso generazionale e via dicendo, ma non ci sono soltanto racconti perché poi sembra che sia un libro di racconti a fumetti ma è un volume appunto l'abbiamo chiamato anche antologia perché prevede anche all'interno illustrazioni illustrazioni varie quindi perché ci sono dei contenuti anche trasversali però il filo che lega il tutto sono proprio il G8 genovese ma soprattutto la voglia di continuare a fare solidarietà e raccontare la storia che è stata in quel G8 di Genova. Michele anni fa in una sua storia usò quella frase fortunatissima che noi ci siamo appropriati sin da subito che era la memoria, un ingranaggio collettivo, non siamo stati capaci e capaci tutti in questi anni di essere parte di questo ingranaggio collettivo per motivi diversi, chi perché ha sottratto la propa rotella, chi perché magari aveva una rotella arruzzinita, comunque abbiamo fatto molta fatica. Spesso e volentieri si è preferito delegare ad altri e altri documentaristi, registi, giornalisti, racconto di quelle giornate, troppo poco l'abbiamo fatto noi ma non perché siamo testimoni come quelli che pare che avevamo fatto il Vietnam ma non abbiamo fatto nessun Vietnam, però comunque la nostra storia è qualcosa che ci appartiene e forse dovremmo ritornare a raccontarla noi in tutte le varie sfaccettature. Una delle storie che poi va a raccontare una di queste sfaccettature, perché ce l'ho anche vicino, è quella di Michele che attraverso l'indicibile va a dire delle cose che poi ormai molti di noi a distanza di vent'anni pensano ma soprattutto verso la conclusione, lui dice una roba che noi, uso il plurale ma che io condivido molto, che è quella là, se siamo un po' rotti le scatole, voglio usare un linguaggio edulcorato perché sono una città e non mia, non vorrei essere tacciato, i soldi romani così, però ci siamo rotti le scatole doverci giustificare anche perché non abbiamo nulla di cui giustificarci, la campagna nostra e il volume stesso si chiama nessun rimorso, quindi uso questo gancio per mettere in mezzo Michele in questa conversazione e anche per ragionare il perché, noi abbiamo ritenuto il fumetto, forse il modo migliore per cercare di raccontare attraverso delle immagini, immagini parlate, immagini mute, quelli che sono stati i sentimenti di molti di noi che erano a Genova oppure erano all'ascolto delle radio oppure andavano a una televisione durante quelle giornate oppure come Samuele che forse manca andava all'asilo perché già era oggettivamente piccolo a Roma c'era un'autrice che ha partecipato anche alla presentazione che ci ha detto io nel 2001 avevo 5 anni e poi ha motivato in maniera splendida il perché ha voluto poi partecipare. Ma ritorniamo all'indicibile di Michele. Ciao a tutti e a tutti, grazie per l'invito e proprio di due cose sulla storia mia o in generale sul volume, che cazzo ne so? E tu mi hai passato una cosa? Comunque ho 37 anni, sono lontano dai 40 ancora e all'epoca ce n'avevo 17 e proprio per questo in realtà a 17 anni l'ho vissuta con un impatto particolarmente forte e in realtà per me è stato anche l'inizio dei fai fumetti fuori dalla mia cameretta o dalle fanzine punk, nel senso che la cosa più lunga che ho mai disegnato, che avevo mai disegnato fino a 20 anni è quella storia, una delle storie che stanno là dentro, che è quella della nostra storia alla sbarra e che appunto era il mio modo per tirare fuori quell'esperienza lì fatta proprio all'indomani degli arresti dei famosi 25 e noi finora abbiamo parlato dei 25 come se la gente dovesse sapere che cosa sono magari in sacco di gente, non lo sa, comunque sono i 25 arrestati per devastazione e saccheggio che furono arrestati tra il 2003 e il 2004, quindi dopo i fatti, tra il 2002 e il 2003, quindi dopo i fatti del Genome, insomma un po' di mesi dopo e in questi anni che ci sono stati in mezzo io ho fatto un miardo delle storie e delle illustrazioni sul tema un po' perché è un po' una cosa che ritorna come spartiacque della vita mia e quindi a cui ho cercato di stare appresso un po' per motivi individuali, un po' per motivi politici anche insieme a supporto legale e anche nel cercare di dare un contributo a queste campagne per chi ha continuato poi a essere imbrigliato nelle maglie della giustizia italiana e credo che mentre abbiamo il treno stavo guardando un po' di cose su internet, vedevo che stavano riproiettando il film di Iaz e ho pensato che quello che distingueva il fumetto da altri media e che è il motivo per cui io ho potuto farlo anche così agevolmente e in maniera così diretta e come me e tanti altri che si trovano in questo volume qua è che il fumetto penso che sia stato, in questo volume lo testimonia, uno dei modi più diretti per raccontare e per, non solo per esorcizzare, anche proprio per, non so che parola usare, comunque diciamo per raccontare i fatti di quei giorni, perché il fumetto è qualcosa che uno fa da solo in cameretta a budget zero sostanzialmente poi ovviamente stamparlo è tutta un'altra questione eccetera, ma è un modo di narrare che in qualche modo non c'è bisogno dei produttori, compromessi e cose ci ho pensato con Iaz perché poi io non so esattamente la vicenda ma uno dei grandi drammi economici di Fandango fu che sostanzialmente Iaz a un certo punto nessuno lo volle più produrre, le guardie stesse, il ministero, tutti quanti gli hanno detto guarda sta roba non si può fare con tutto che poi non è che necessariamente uno deve essere d'accordo con tutta la maniera in cui Iaz racconta eccetera, perché poi non abbiamo necessariamente tutti la stessa sensibilità però è l'esempio di come altri prodotti che ci hanno bisogno di un apparato un po' più grosso si sono trovati anche in difficoltà a raccontare questa storia si sono scontrati anche con la volontà di non far passare tutta una serie dei racconti e tra l'altro quello è il motivo per cui la narrazione mainstream ha prodotto dei mostri oggi di persone magari molto piccole che pensano che a Genova Carlo Giuliani è l'assassino di quelle giornate considerato che Carlo Giuliani è l'unico morto di quei giorni che qualcuno che magari manco c'è stava ad oggi lo considera un assassino che dà proprio il polso di come questa storia è stata raccontata nel corso degli anni e basta, l'ultima cosa, poi mazzitto e posso parlare a qualcun altro è sulla storia l'ultima, quella fatta diciamo in questi ultimi mesi per questo volume apposta che è l'indicibile e che parte proprio dal fatto che a me in verità penso di averne parlato in tutti i modi possibili del genere in questi anni l'unico modo in cui non ho parlato è forse quello più sincero rispetto anche all'identità mia dei 17 anni che è andato là a me tutti mi hanno chiesto in questi ultimi mesi se volevo contribuire a podcast, a interviste, a cose eccetera e tutti mi dicevano innanzitutto guarda però non ti preoccupare, non parliamo di ordine pubblico parliamo dei contenuti, quindi ci racconti i contenuti eccetera e io inizialmente pensavo sì giusto da paura poi a un certo punto questa cosa mi è cominciata a sembrare quasi una retorica quasi al pari di quella che c'era prima anche perché soprattutto i contenuti di me che a 17 anni non è che c'avevo un percorso alle spalle o chissà quale, cioè io c'avevo dei pilastri cardinali, valoriali ma sostanzialmente era uno dei quei tantissimi pischelli che a Genova ci sono andati perché c'è stavano i scontri e rimuovere questa componente qui non, scontri che peraltro io non sono neanche riuscito a fare perché comunque ci sono andato con un'ingenuità di chi pensava di fare la guerra dei bottoni e poi si è trovato invece diciamo un esercito di agnientamento di fronte quindi questa roba evidentemente mi ha lasciato spiazzato però una parte che secondo me è stata vissuta con molto imbarazzo era comunque, e che poi è stata in parte anche rimossa è stata anche la componente del conflitto che comunque era qualcosa che esisteva che si poteva nominare e che era secondo me ha fatto da catalizzatore a tante delle persone che stavano lì ma anche in maniera sana insomma anche perché poi non c'era neanche poi diciamo che era subito prima della grande apertura sulla violenza, non violenza del dibattito là che poi dopo ci ha diciamo è stata un po' un'ipoteca su qualsiasi pratica di conflitto in piazza negli anni successivi e abbiamo dovuto aspettare dieci anni quando si sono affacciati i pischelli dell'onda in qualche modo che questa roba non se la ricordavano perché non l'avevano vissuta per riaprire una serie di partite all'interno di questo paese e quindi in realtà io ve lo fa anche il racconto di quella parte lì perché mi sembra che è stato un po' il grande rimosso di questi anni e rimuoverla è stata poi quello che ha prodotto che in questi anni abbiamo parlato quasi soltanto come se ci dovessimo giustificare del fatto che ci hanno menato la Diaz che ci hanno menato Bolzaneto che sono delle robe effettivamente atroci che ci hanno menato per strada e che sicuramente vanno continuate a raccontare dal polso di quello che erano quelle giornate però mi è sembrato quasi che noi dovessimo dire cioè che quella roba fosse il nostro patentino per accreditarci nel dibattito dire siccome ci hanno menato noi siamo i buoni ma questa cosa ha fatto sì che tutti quegli altri sono diventati cattivi e in realtà appunto io volevo ricordare che c'era anche un altro modo di venire a Genova e di sta a Genova che per questo insomma la cosa di questo titolo è nessun rimorso che a distanza di vent'anni continua a giustificarsi su questo a me mi continuava a stare un po' stretto ho forfogliato un po' è la prima volta che parlo di questa roba in pubblico quindi scusatemi, ciao Allora sembra che magari ce la siamo preparata ma non è affatto così se vediamo da giorni però Michele ha tirato fuori una cosa molto giusta e che noi poi raccontiamo proviamo a spiegare nell'introduzione di questo volume che a meno da nostro avviso la grossa eredità chiamiamola così visto che in questi giorni ho sentito podcast gente che parlava delle eredità di Genova se c'è un lascito da quelle giornate è proprio quello che diceva anche Michele ossia di legittimare o anche semplicemente di politicizzare qualsiasi forma di conflitto mi sembra che sia anche abbastanza evidente qualsiasi forma di protesta che non sia quella irrigimentata o che possa essere tra virgolette buona non viene più riconosciuta si è pianto l'hanno fatto anche i media mainstream quando un lavoratore un compagno ma soprattutto un lavoratore è stato ucciso investito e ucciso durante un picchetto ma fino al giorno prima i picchetti erano qualcosa appunto di indicibile fare il picchetto oltre che poi Salvini con i blocchi statari l'ultimo ministro dell'interno da allora li criminalizzò ulteriormente e via dicendo però qualsiasi forma di protesta anche semplicemente sui luoghi di lavoro viene delegittimata se alzi un attimo la tensione non sei più politico sei semplicemente un violento essendo violento non c'è più politica facendo un altro passo indietro visto che siamo a Bologna mi viene da pensare io a una una delle cose che ho assistito che credo che sia stata anche la più intelligente fatta negli ultimi anni fu la resistenza di XM con i media maestrime che raccontavano un clima di guerriglia urbana l'altro dietro l'angolo i facinorosi i violenti i termini li sapete anche meglio voi perché magari a differenza mia leggevate molta cronaca locale visto che siamo visto che siamo a Bologna poi successe che il giorno che l'esercito dei maschi testosteronici in Mimetica si presentò davanti all'XM non si trovarono la guerriglia vennero spiazzati da una forma di resistenza diversa da quella che avevano montato avevano raccontato che sarebbe accaduta un po' come succede spesso e volentieri prima dei cortei sui giornali già da giorni si parla dell'incubo black bloc per il G20 che ci sarà a Venezia tra non molto per dire che anche in quel caso la resistenza di XM già di suo veniva espulsa da qualsiasi dibattito che fosse politico perché erano i brutti sporchi e cattivi della città di Bologna poi la realtà dei fatti è che questa città senza XM è una città molto più povera tornando e rimanendo a quello che siamo a quello per cui siamo qua oggi questo però non è soltanto un'antologia di gente che sta là come diceva Michele ci ha nominato e via dicendo un po' perché noi rispingiamo qualsiasi lettura sia vittimistica che ludicistica di Genova non ci interessa non stiamo qua però è anche un'antologia che ha degli squarci che fanno ridere e uno degli squarci che mi ha fatto ridere è quello di di Francesco che coinvolgo quindi qua se non sbaglio no? ecco là il manuale del giovane conformista per sopravvivere al G8 di Genova credendosi attivista che è però un modo per cioè si può raccontare quelle giornate anche non raccontare quelle giornate in una maniera intelligente che faccia ridere vado vado az voce trovo vado buonasera a tutti io sono Francesco Gattani e ho fatto una piccolissima in realtà storiella di due pagine in questo libro molto importante e devo dire che porto un punto di vista un po' anche diciamo scomodo cioè di chi aveva l'età per andarci e non c'è andato in realtà l'ho messo molto sul ho giocato molto sulla codardia dei personaggi però credo che in realtà le cose in gioco siano molto più complesse ovviamente e se devo un po' andare a ripescare le i momenti che ho vissuto in quel periodo nel 2001 io avevo circa vent'anni e lavoravo mi avevano appena assunto a tempo indeterminato in una bellissima azienda multinazionale e il mio terrore era partecipando a una cosa che per me era in realtà molto importante cioè quindi volevo assolutamente andare ero terrorizzato dall'idea di compromettere il mio futuro con denunce e cose del genere e credo che questo sia effettivamente il metodo più più funzionante che diciamo è in atto in questo momento effettivamente come racconta questo libro ci sono persone ancora coinvolte in denunce piuttosto complesse quindi effettivamente non sento di colpevolizzarmi però devo dire che ero completamente aderente al contesto globalizzato per cui con la promessa di un futuro sicuro in realtà l'importante era che io non questo l'ho capito molto dopo naturalmente non uscissi dai binari diciamo così e quindi effettivamente a Genova non ci sono andato sentendomi non così bene ma me la sono poi giocata con un cinismo ironico che andava anche di moda in quei tempi quindi diciamo che ho cercato di raccontare un po' questa di dare non leggerezza perché è impossibile però di con l'autoironia di cercare di trattare il punto di vista di chi magari non ha avuto le condizioni il coraggio o non lo so la possibilità di muoversi in un'azione così importante così forte pur credendo in quegli ideali questo è un po' però sono veramente due pagine quindi la mia è una forma di sostegno ma ci sono persone che hanno fatto delle storie più di spessore che hanno trattato veramente i temi fondamentali di questo evento però a far ridere come quella di Michael e Mirko che trovo straordinaria come raccontavo ovviamente noi il supporto legale nella vita non facciamo né gli editori né facciamo i fumettisti o le fumettiste non ci occupiamo di fare libri quindi a molti autori autrici siamo arrivati attraverso di percorsi diversi a parte appunto Michele che è un dirimpettaio di movimento mi viene da pensare che altri invece l'abbiamo coinvolti facendo non una call pubblica ma dicendo a amici parenti autrici autori a noi più vicini a regà spargete la voce chi pensate che ci possa cascare in questo progetto testuali parole mettiamolo in mezzo perché un'idea ce l'avevamo fino a un certo punto se qualcuno mi avesse chiesto come lo immagini il fumetto lo chiedevate pochi mesi fa io avrei firmato per la metà del valore che ha questo volume infatti siamo rimasti anche noi stessi molto sorpresi uno di quelli che noi non conoscevamo perché avevamo visto qualcuno di noi aveva visto qualche illustrazione perché fortuna siamo anche persone che leggono questo caso fumetti è Samuele che uno non è il più non so se è il più giovane comunque uno dei più giovanissimi che sta all'interno del volume che nella vita fa l'illustratore più che comporre storia a fumetti fai anche questo però presentali Samuele e raccontaci più che altro senza che funziona caputtana se funziona abbassi un po' per favore grazie ciao a tutti io in realtà la prima volta che parlo a più di cinque persone quindi sono un po' così in realtà è stato sempre difficile presentarmi perché fin da bambino il mio sogno era quello di fare il fumettista però il mio primo fumetto l'ho fatto l'anno scorso e quindi sì diciamo faccio il fumettista ma faccio ormai dico che faccio il disegnatore poi come impiegare i disegni lo troviamo andando avanti insomma ancora non l'ho capito molto bene io quando nel 2001 avevo cinque anni quindi un altro che aveva cinque anni e non so se riesco a spiegare bene come ha fatto quella ragazza il motivo per cui ho accettato di partecipare però ci provo ho fatto pugilato per tre anni ho fatto tre anni di agonismo e appunto mi allenavo in una palestra facevo gli allenamenti praticamente tutti i giorni e ero appena avevo appena cominciato avevo quindici anni sedici anni e credo come tutti quindicenni e sedicenni diciamo si cominciano ad approcciare più o meno a quest'età al mondo della politica prima non conosco nessuno di solito ero sempre più giovane e quindi ricordo che era pochissimo tempo che avevo conosciuto queste persone quelle che poi sono diventate i miei compagni quelle che tuttora sono i miei compagni che sono forse i miei più cari amici quelli che mi hanno insegnato tutto dallo spazzare per terra al mettere un fusto di birra nella spinatrice insomma tutto soprattutto la birra nella spinatrice è una cosa fondamentale e mi ricordo la prima cosa che gli ho chiesto è come faccio a entrare dentro il centro come faccio a entrare in un centro sociale intanto prendi la corriera arrivaci e poi vediamo come fai a entrare dentro il centro sociale quindi a questo livello quindi livello zero e quindi mi cominciavo ad approcciare piano piano e intanto facevo pugilato chi conosce un po' le palestre di pugilato sa che all'interno è abbastanza promiscua la fauna è sempre pendente un po' più a destra forse a meno che non sono palestre di un certo tipo io però avevo la fortuna di allenarmi da agonista quindi facevo il turno quello un po' più un po' più duro dove c'erano poche persone oltre a noi agonisti che eravamo in cinque c'erano due persone esterne due carabinieri venivano a fare gli allenamenti questi due i carabinieri secondo me per non so bene che cosa dimostrare ma già il fatto di dover mettere una divisa penso sia la cosa più esplicita insomma quindi volevano dimostrare non so bene che cosa comunque che non erano amatori ma non erano proprio agonisti ecco e ammetto che io mi divertivo anche molto con loro perché era cioè sai calzavi un po' di più e non ti stavano bene dietro e quindi sai era interessante una sera mentre stavo finita la doccia mi sono messo una maglietta ero appena stato in Valsur credo fosse una maglietta notav ma semplicissimo ho scritto notav niente di che ecco e mi hanno dato da dire non lo so 16 anni pensavo la stessa cosa cioè nel senso la cosa che mi ha mosso è stata penso l'odio nei loro confronti ma non so adesso con un po' più di intelligenza eccetera so che l'odio va riposto è un sentimento molto più nobile che non va cioè loro non va sprecato per loro ecco però lì in quel momento mi sono sentito di di ribattere e la cosa da cosa nasce cosa ho cercato di spiegarmi farfugliando perché comunque a 16 anni avevo visto poco ho letto poco eccetera e glielo ho servita su un piatto d'argento gli ho dato tra l'altro loro mi avevano detto perché noi a Genova ci siamo stati loro avevano fatto da quello che ho capito tutti e due i celerini a Genova e quindi me l'hanno servita aspettavano solo quello che io nominassi il G8 e quando ho nominato Carlo Giuliani mi ricordo subito che uno dei due credo quello più alto in grado perché si vede subito chi è il più alto in grado perché l'altro sta sempre zitto e mi ha detto sì ma quella merda c'aveva anche un coltello dietro la schiena io lì non ho saputo cosa dire sapevo benissimo che non era vero perché le le foto e i video li avevo già visti è la prima cosa che guardi quando fai una scelta le prime cose che guardi sono quelle e quindi sapevo che non era vero però non ho saputo cosa dire la cosa che ho fatto è stata tornare subito a casa accendere il computer e riguardare tutti i video passa tutta la notte a guardare i video ed effettivamente era una stronzata col segno di poi ringrazio il fatto che eravamo solo io e loro e nessuno l'ha sentito e quindi perché finché lo dice a me va bene cioè si dovevano forse giustificare non so bene con chi sapendo che sono delle merde ma il telefono senza fili è sempre strano non so bene chi l'ha detto prima però appunto questa antologia è importante e io ho voluto dare un piccolo contributo anche perché ho provato a scrivere a raccontare ma la cosa che mi è venuta più facile è stato fare un unico disegno e appunto cioè è importante raccontarlo per non dare la possibilità di camuffare quello che realmente è successo oppure imbastardirlo oppure ancora addolcirlo perché di dolce c'è poco e non è giustificabile ecco e quindi bisogna parlarne e raccontarlo e anche perché appunto ripeto io parlo da persona che a cui si può solo raccontare e quindi io io sono stato fortunato perché me l'hanno raccontato nella versione giusta però come come me io ho un sacco di amici che non hanno ricevuto cioè non hanno ricevuto lo stesso regalo che ho ricevuto io ecco quindi non so se mi sono spiegato bene forse no ma ti sei spiegato anche abbastanza bene ammazza però appunto ha detto anche bene forse non siamo stati capaci fino in fondo in questi anni a portare avanti questo processo di memoria ma senza stare a colpevolizzarci proprio perché spesso e volentieri non si riesce per molti è mancata l'elaborazione di quello che è successo altri l'hanno fatta forse troppo in fretta però di sicuro è mancata una voglia di stare a raccontare un altro che invece noi come sopporto legale non conoscevamo personalmente ma Alberto Alberto Corradi invece è uno di quelli che invece è imbeccato anche lui dal giro di amici parenti fumettisti in questo caso sempre il buon Alessio è lui che ci siamo contattati a vicenda ma perché è un altro di quelli che ha dimostrato che gli andava di starci dentro questo volume e l'ho fatto tra l'altro c'è una delle illustrazioni più belle però l'hai fatto tra l'altro pure con diversi contributi in questo volume raccontaci anche l'idea che ti hanno accompagnato perché poi non è roba che hai fatto tutta che hai fatto negli ultimi tempi è una roba raccolta in questi anni appunto di un percorso riguardo Genova che non inizia negli ultimi tre mesi quando abbiamo fatto la chiamata no infatti le storie che sono dentro le mie storie che sono dentro volume sono l'aggiornamento di alcune delle storie che erano dentro Genova verso G8 più una serie di elementi nuovi due tavole nuove un'illustrazione nuova che mi si sono mi si sono presentate un pochino così come una specie di coscienza che usciva dall'antro scuro perché quando Alessio mi ha Alessio Spataro mi ha chiamato per chiedermi se volevo ripubblicare le storie che avevo disegnato su Genova su un nuovo volume ovviamente ho detto di sì subito anche se un angolo della mia mente mi diceva sai che cosa ti stai andando a cacciare la ragione è molto semplice perché nel corso di tutti questi anni che sono intercorsi non dal volume che era del 2005 Genova SSG8 ma dal 2001 ad adesso una cosa che ho cercato di evitare dentro di me è che Genova diventasse un luogo della memoria cioè nel senso un luogo dove tutti in qualche modo nascondono una sorta di sgabuzzino mentale un evento e lo decorano lo ornano in qualche modo magari lo coccolano però allo stesso tempo se lo dimenticano diventa quasi un qualche cosa che soprattutto adesso in questa epoca selvaggia di social di fake news di deformazioni di meme dove tutte queste cose si affastellano costantemente una sopra l'altra per cui riuscire a distinguere quali sono i dati le verità o comunque le cose le questioni oggettive che stanno intorno a un fatto o a un insieme di fatti vengono costantemente rimasticate ripostulate riformulate e allora è stato un po' fare queste tre alla fine nuove tavole un'illustrazione di due tavole che fanno da preambolo alla storia che ho comunque risistemato che si chiamava caverna è stata un po' una specie di incubo nel senso che non essendoci stato io a Genova ho sempre sentito molto una sorta proprio di sofferenza interiore per esempio c'è il fatto che a Genova non ci sono arrivato per tutta una serie di ragioni che ho raccontato anche in parte nel libro ma che contemporaneamente mi hanno sempre lasciato in sospeso cioè tu ti siedi davanti a una televisione e tornando indietro dalla stazione perché i treni in quel momento non c'erano più e guardi quello che sta succedendo vedi nuvole di fumo vedi gente che scappa vedi sangue cioè tu pensi che saresti andato là ma che contemporaneamente non c'eri ma là in mezzo ci sono i tuoi amici che prima ancora di essere se vogliamo compagni sono i tuoi fratelli sono le persone che hanno scelto di essere e di condividere lo stesso percorso di vita che noi facciamo noi siamo una specie strana come noi facciamo fumetti noi viviamo come diceva anche Michele poco fa viviamo nella nostra stanzetta nel nostro buco e produciamo storie che filtriamo attraverso il filtro differenziale del nostro immaginario per cui anche lì romanzare ricamare sopra qualcosa è un attimo e e quindi tipo sono persone che hanno fatto e sono parte di te cioè c'è poco da fare siamo una sorta almeno per me di famiglia espansa per cui pensare che erano là in mezzo a tutto quello che stava succedendo da un lato c'era questa cosa che ti faceva ancora sentire peggio in qualche modo il sollievo di sapere che a te non stava toccando in qualche maniera e contemporaneamente la disperazione di sapere che loro stavano in mezzo poi tra l'altro parlando con molti di loro che mi dicevano beh ma se fossi venuto l'unica cosa che avresti potuto fare era scappare per cui tutto questo quando Alessio mi ha chiamato mi si è messo in moto dentro e ho incominciato a rivedere tutto quello che potevo rivedere i filmati il blu notte dedicato a Genova di Luccarelli Carlo Giuliani il ragazzo sia le cose su YouTube sia le cose che avevo in VHS ancora un lettore VHS funzionante per cui mi sono riguardato Genova per noi ed è stato cioè devastante senza voler fare il passionario né niente intendiamoci però è stato brutto molto brutto per cui riuscire a trovare il giusto grado di astrazione e riportarlo di nuovo sulla carta su riflessioni di cose è stato molto complicato però allo stesso tempo il mondo che si è delineato dopo Genova ha sicuramente cambiato tantissime persone io fra l'altro sono uno di quelli fra virgolette della vecchia guardia nel senso che avevo 29 anni quando c'è stata Genova mi ero laureato qualche settimana prima per cui alla fine comunque avevo ancora 20 anni in un certo senso per cui sei ancora come diceva qualcuno un giovane coglione no? cioè per quanta discussione politica per quante per quante prospettive per quanti ragionamenti tu possa aver fatto ci sono cose per cui non sei pronto proprio perché probabilmente una parte di te è sempre dentro a quella stanzetta che sta a disegnare che sta a vivere in prospettiva le cose in una maniera magari alle volte che sono anche in Genova magari alle volte così è disponibile a illudersi che qualche cosa del genere non possa mai succedere per cui dopo Genova per me è stato è stato come guardare il mondo da un altro punto di vista e penso anche che lo sia stato per tantissime della nostra generazione quindi quando ho raccontato le cose nuove che sono dentro nessun rimorso ho anche cercato di trasmettere questa cosa nel senso di ripensare a un posto che è Genova dove sono stato poche volte fra l'altro nella mia vita per quanto sia una bella città però cercando di non di non pensarla sempre come come ho detto prima a un luogo della memoria cioè un posto che sta lì in una sorta di recondito immaginario che ormai fa parte di una sorta di iconografia perché il problema tecnico è che quando una cosa la rendi così la prendi la metti in una cornice la sistemi in un angolo della tua stanza mentale e la mostri magari a qualcuno quando salta fuori la discussione su questo su quell'altro che è successo in quel determinato posto è proprio come totalmente privarla del suo significato e questo ho cercato di evitarlo il più possibile allora a parte che chiunque voglia intervenire con domande osservazioni si senta libero libera di farlo perché non stiamo a fare una presentazione ingessata no di qua e di là perché non credo che sia nello spirito di nessuno che sta qui dentro qui dentro oggi e rimanendo però sul fumetto poi magari torniamo anche a altre cose e lo dico anche a voi perché c'eravate già dal primo volume secondo me anzi secondo un po' molti di noi questo volume però rappresenta in parte non voglio far arrivare con l'accetto anche come il fumetto italiano è cambiato negli ultimi 14-15 anni vorrei fare soltanto un esempio Genova vs G8 era ai noi un fumetto tutto al maschile gli autori erano tutti al maschile e non perché non c'erano autrici pare oggettivo che 14 anni dopo la scena del fumetto è stata invasa dalle autrici per fortuna e alcune stanno anche in questo volume penso a Michele spesso magari scherzando lo prendo in giro però anche Michele nel tratto ma anche nella composizione delle tavole una differenza si vede senza far battute però una differenza si vede c'è stata una crescita da parte di diversi autori autrici però il mondo del fumetto è cambiato in questi 15 anni volevo un po' coinvolgere un po' tutti per parlare di fumetto visto che questo è anche un fumetto tra l'altro ci siamo appoggiati in una casa editrice che fa fumetti proprio per questo motivo perché volevamo anche molto valorizzare proprio il fumetto stesso come arte espressiva beh sì il panorama fumettistico nell'arco di pochissimo ha cambiato tantissimo ed è in meglio penso l'apporto delle nuove autrici dei nuovi autori che si sono profilati all'orizzonte nell'arco di un breve respiro è stato sicuramente un cambio anche questo un cambio di prospettive penso ad esempio solo per citarne una che è presente nel libro la Rita Petruccioli che anche se con un gusto sicuramente minimale nella narrazione che la contraddistingue ha raccontato in maniera molto bella secondo me i suoi sentimenti di ragazza quando Genova Genova si è si è verificata poi ovviamente sì è vero nel 2001 il nostro mondo era ancora praticamente tutto maschile adesso no non più per cui i modi di vedere di percepire sono diversi per carità va detto anche che comunque insomma tanti disegnatori un lato più intimistico l'hanno sempre avuto però non è nulla di paragonabile a questa a questa nuova beh si potrebbe definire corrente nel senso che comunque sono tante sono disparate raccontano cose diverse ma hanno un modo di affrontare di affrontare tante volte le storie con una decisione che forse tanti di noi hanno in qualche modo dimenticato o perso nel corso del tempo secondo me c'è anche un'altra cosa che è sulla questione diciamo delle autrici donne sono d'accordissimo c'è anche un altro fatto che in realtà il mercato del fumetto si è aperto tantissimo negli ultimi anni cioè quando io ero ragazzino e quando è uscito il primo volume era impensabile per tantissimi di noi con uno stile che non fosse quello iper realistico di Landog o iper anatomico della Marvel o quello grottesco di Topolino pensare di raggiungere un posto nel mercato che non fosse quello sostanzialmente dell'autoproduzione e quindi del doverci affiancare altri 40 lavori per campare e questa cosa secondo me a un certo punto è cambiata ed è cambiata nel momento in cui c'è stata un po' la percezione che il fumetto non era un genere ma era un linguaggio e quindi poteva raccontare tante cose diverse non più soltanto o l'intrattenimento oppure le cose per bambini eccetera c'è stato un momento in cui nelle librerie si è passati dall'avere il fumetto insieme allo scaffale coi libri da tatuaggi ha proprio il reparto dei fumetti e secondo me il fatto che dentro ci siano persone che negli ultimi anni pur avendo stili che sono assolutamente appunto a volte comunque lontanissimi da quello che era il mainstream dei dieci anni fa alcune di queste persone comunque sono diventate professionisti e sono diventate persone che hanno avuto possibilità di lavorare nei fumetti di confrontarsi col pubblico di confrontarsi con uno spettro più ampio eccetera la dimostrazione alla fine è che questa roba esce con un editrice con una casa editrice che comunque è mainstream nel senso che al netto io non penso che in generale l'autoproduzione sia un trampolino per il mainstream penso che per certe cose sia una cosa assolutamente da preservare una scelta da fare sotto tanti motivi da quelli etici a quelli economici però non so dogmatico diciamo su questo fatto anche perché con la vita che faccio io sarei un deficiente se fossi dogmatico su questa cosa qua però io penso che 15 anni fa quel libro non sarebbe stato pubblicato da una casa editrice mainstream anche per chi ci stava dentro per le cose eccetera adesso in qualche modo le persone che sono cresciute nel mondo del fumetto hanno un potere all'interno del mercato del fumetto anche di poter dire delle cose senza compromessi delle cose anche radicali con degli stili che comunque non ci hanno compromessi rispetto appunto a uno stile magari canonico eccetera e però stanno comunque in libreria col marchio di Coconino eccetera non so penso che anche questa cosa qua è specchio del cambiamento che c'è stato negli ultimi 15 anni io ovviamente invito anche Francesco e Samuele non mi fate parlare a Amadeus di centri sociali che vedevo da voce e microfono intervenire liberamente è uno spazio libero questo vale pure per chi sta qua davanti a noi ad assistere quindi non fate che uno vedevi di che vuoi dire no quindi partecipiamo al fatto perché poi anche qua abbiamo parecchio da raccontare a me la sensazione è che il fumetto comunque almeno in questo momento l'Italia riesce a essere una delle arti espessive più politiche cioè escono più fumetti politici che non romanzi politici è vero che il volume uno dovrebbe ragionare in percentuale però mi sembra che se spesso nella narrazione nella fiction si è perso quel lato politico invece il fumetto in varie aspetti sfumature un po' diverse italiano o estero continua a rimanere invece una una forma espressiva un linguaggio ancora tuttora piuttosto politico comunque che c'è una sua fetta politica non indifferente non so a chi saputo a chi qual è la domanda più difficile non funziona neanche il microfono non ce n'è capita allora io ora io questa cosa veramente non ti so dare una risposta in quanto cioè io non so fare altro e quindi io faccio questo solo perché è veramente l'unica cosa in cui ho trovato un riscontro reale nonostante ancora non abbia fatto chissà cosa cioè nel senso fatto credo meno di tutti qui su questo palco quindi non non lo so io come dice giustamente che c'è pure 12 poi tu dici 13 anni di meno tu continui a dire che è mezzo 37 e mezzo mi aggancio con quello che diceva Michele cioè questa cosa dell'intrattenimento io quello che posso dire di cui sono abbastanza convinto è che appunto sicuramente si è data tantissima negli ultimi anni io per fortuna ci sono veramente cascato dentro a questa cosa perché io credo 15 anni fa cioè i miei disegni sarebbero stati veramente impubblicabili cioè io sarei stato veramente l'impubblicabile per eccellenza ma non è vero eh? non è vero ma vabbè quello che posso dire è che appunto e che sono veramente felicissimo è che il fumetto non è più intrattenimento cioè c'è anche il fumetto di intrattenimento però c'è anche un altro tipo di fumetto appunto perché è diventato un media e non un genere secondo me è molto vero quello che hai detto tu Michele sul uno sul fatto che il fumetto è super potente perché è una cosa che fai nella cameretta a impatto zero economico insomma dipende solo da te e questo è un grande vantaggio è vero che si è aperto il mercato come hai detto l'altra cosa però è anche vero che secondo me questa esplosione che c'è stata è anche dovuta ai social che hanno liberato completamente da tutti i passaggi che erano obbligatori e che filtravano capito? secondo me questa è la mia opinione cioè se tu dovevi prima andare da un editore dovevi essere accettato dall'editore e quello era un filtro anche per le donne per tutte queste problematiche che si sono affrontate per tanti tanti anni e adesso effettivamente uno è in grado di se è bravo crearsi il suo pubblico capito? quindi questa roba è devastante questa cosa ha cambiato anche il mercato sì ma sono gli editori che ti vengono a cercare spesso esatto a seconda dei follower immagino ma a parte ovviamente adesso questa è una battuta però è vero per me è una cosa molto positiva questa qua che ha cambiato ovviamente tutto il mondo ma molto anche il fumetto e col fatto che il fumetto ha un impatto visivo notevole e che ti riesce a tirare in un istante dentro a una storia ha trovato veramente il suo momento che già solo dieci anni fa non probabilmente non riusciva a esistere quindi era molto più complicato poi farsi leggere da molta gente io pensavo a quello che diceva Samuele comunque si può fare anche intrattenimento politico nel senso che per esempio Michele è uno di quelli che fa intrattenimento se vuoi attraverso le sue storie ma il 90% delle sue storie comunque sono storie politiche quindi si può fare anche questo perché poi sembra che l'intrattenimento sia qualcosa di quasi svalutante no invece assolutamente cioè si può fare intrattenimento questo è anche un volume che appunto ha delle sfumature talmente diverse che è un po' tutto e comunque noi lo continuiamo a presentare noi come supporto legale principalmente come un testo che per noi è molto politico non soltanto perché all'interno ci sono diverse pagine scritte da noi fondamentalmente i riassuntoni dei processi perché era giusto fermare nero su bianco su come sono andati i processi perché spesso e volentieri vi dico la verità anch'io prima di cominciare a studiare le presentazioni mi sono andato a rileggere un po' di cose ma perché negli anni poi con l'età e via dicendo uno qualche pezzo se lo perde e spesso fa delle sintesi un po' troppo sintesi e noi come supporto legale vogliamo continuare vogliamo volevamo mettere quando ci siamo decisi tra noi di come affrontare questo ventennale già più di un anno fa ci siamo detti una delle volontà che avevamo era quella di fissare dei punti di mettere dei punti prima che lo facessero gli altri e le altre anche perché in questi vent'anni delle cose erano già state fissate e spesso in maniera un po' troppo superficiale abbiamo raccontato quello che era la dicotomia buoni e cattivi e la potete leggere ancora in questi giorni tutte delle letture che dopo vent'anni non si sono spostati di una virgola lasciamo perdere le cariate di Divo Bertinotti che ha rilasciato un'intervista in cui raccontava la sinistra è morta a Genova e te credo tu eri uno degli assassini a Genova e dopo a Genova ma questa è un'altra storia lo dicevo perché appunto certe cariate noi stessi a volte pensiamo di essere delle cariate le pensate un po' però allo stesso tempo volevamo pissare dei punti e spezzare quella che era stata la narrazione un po' troppo schiacciata in questi anni appunto sulla teoria vittimistica che spesso e volentieri non aiuta neanche nella lettura faccio un esempio l'ho fatto anche l'altra sera tra l'altro è la terza presentazione in quattro giorni c'ho sempre paura vi ripeto le cose che ho già detto perché mi sentirei doppiamente frustrato però questa parola purtroppo l'ho già detta pochi giorni fa sulla stampa c'era un editoriale in prima pagina di Concita di Gregorio che su Genova filmò uno dei libri più di successo nell'immediato che era quello non lavate come era il nostro questo sangue perché non era il nostro sangue perché lei non era la Diaz questo sangue raccontando quello che era successo alla Diaz la Diaz è una lettura talmente semplice che ha tolto quell'arco politico che va da Hitler a Meloni e Salvini penso che chiunque nessuno cioè chiunque dice che la Diaz è un abominio quindi è anche abbastanza semplice e lei in questo editoriale diceva non è stata imparata la lezione del G8 e no cara Concita forse sei tu che qualcosa non l'hai imparato perché queste altre persone l'hanno imparata tant'è che in questi ultimi vent'anni pestaggi nelle carceri non erano mai emerse con come sta emergendo in queste settimane in questi giorni quello che è successo a Santa Maria Capavetere che era soltanto una delle carceri dove ci sono state dove sono successi fatti del genere perché noi proviamo a raccontare che questa roba è sistemica non è eccezionale spesso e volentieri anche la sinistra quella più democratica racconta un po' come la storia delle mele marce racconta che questa roba rappresenta un'eccezionalità e però un'eccezionalità oggi domani dopo domani dopo domani ancora il cacchio è un'eccezionalità è sistema che basta a riconoscerlo c'è da dire che qualcun altro l'ha riconosciuto che questa roba è sistema non è una roba eccezionale quello che è successo a Santa Maria Capovedere è abbastanza leggibile è qualcosa di molto diverso da quello che è successo alla Diaz è ancora diverso anche da quello che è successo a Bolzaneto di sicuro si lega più alla storia di Bolzaneto perché è quello diciamo il quotidiano che succede spesso e volentieri all'interno delle carceri io vi rinvito di nuovo chiunque perché non è che noi andiamo avanti tipo rave e stiamo fino a domani mattina qua a parlare argomenti abbiamo finito io pure non so più che di mi sono arrampicata quattro reminiscenze che mi sono rimaste quindi se volete intervenire c'è anche un altro spazio che volevamo dedicare se volete intervenire fatelo tranquille non restate a preoccupare anche perché non c'è nulla di cui preoccuparsi è una chiacchierata facciamola il più orizzontale possibile in tutto questo poi magari ora chiamo ad accolta anche un'altra compagna residente di supporto legale che mi aspettavo sedesse accanto a me o comunque che facesse lei invece è sparita perché è un altro dei progetti che poi presenteremo sempre qui a Bologna le prossime settimane lo andremo anche a raccontare magari nei prossimi minuti quindi io vi rinvito di nuovo a intervenire e a partecipare per fermarci nel frattempo in questi mesi mi chiede proprio parlando di quello che è successo nelle carceri e questo quindi va oltre a nessun rimorso perché di nuovo la forma fumetto la forma illustrazione fumetto può essere un modo per raccontare quello che è successo Michele l'ha fatto raccontando quello che è successo un anno fa attraverso appunto qui torniamo all'autoproduzione e a fumetti ma di nuovo al racconto politico usando il linguaggio del fumetto tu mi fai questa domanda perché speri che io occupo il tempo mentre arriva Marina se qualcuno ha delle domande non fate che poi mandate messaggi su Instagram dopo che la gente se non vi risponde subito dite ammazzo che merda che non risponde eccetera fatela adesso che non può rispondere a voce è molto più semplice no nessuno va bene e no sì nel senso che effettivamente poi appunto i modi a fumetti si possono raccontare effettivamente un sacco di cose io una delle delle cose che ho raccontato era questa qua di diciamo di quello che era successo durante le rivolte nelle carceri durante il lockdown e delle conseguenze in realtà se parlava di Santa Maria Capovedere in maniera laterale nel senso che in quel caso specifico era esattamente un mix tra la questione dell'autoproduzione e la questione invece mainstream nel senso che quella cosa io l'ho fatta per internazionale ma poi siccome quando uno stampa un fumetto per una rivista in realtà gli dà il diritto diciamo di pubblicazione di una volta ma i diritti poi rimangono a te ma anche se fossero rimasti comunque poi valla a trovare uno che stampa un'autoproduzione pirata era stato poi ristampato dalla settimana successiva in forma autoprodotta per alzare diciamo i soldi per i processi che tra l'altro guarda caso come le cose tornano i processi rivolte a Re Bibbia al carcere di Re Bibbia per appunto per quella giornata dei proteste in cui in realtà i detenuti chiedevano sostanzialmente di poter rispettare le misure anti-covid quindi di poter avere accesso a una serie di informazioni e quindi perché non gli dicevano perché stavano levando i colloqui e quant'altro e poi chiedevano evidentemente di poter stare in con degli spazi che consentissero le misure e quindi di quanto più possibile far uscire le persone che avevano magari diritto che potevano scontare pene alternative eccetera in modo che chi rimaneva dentro potesse farlo in condizioni di maggiore sicurezza e chi aveva titolo che uscì potesse uscire e stavo a dire questa cosa che le persone appunto che stanno andando a processo per quella roba stanno andando a processo per devastazione e saccheggio che tra l'altro fa molto rire il saccheggio da in carcere che te porti a casa da in carcere te porti in cella il cancellino che hai trovato nella segreteria quindi insomma è veramente curiosa questa roba tra l'altro io questa roba la ripeto sempre perché secondo me un sacco di gente che questa roba non l'ha masticata non ce l'ha sta arrivando mina grande così smetto di parlare e una delle cose che la gente non c'ha chiarissima è che devastazione e saccheggio in realtà riguarda una fattispecie dei fatti che vengono inquadrati tranquillamente nella definizione del danneggiamento soltanto che col danneggiamento non seppellisci una persona in carcere per 15 anni se invece decidi che questa roba è devastazione e saccheggio lo stesso identico fatto gli puoi dare 15 anni di galera ciao marina ora ti lascio sedia in microfono perché appunto come raccontavamo supporto legale in questi mesi nonostante le energie e l'età è quella che è però ha messo in piedi tutta una serie di progetti un altro è Zapruder la rivista Zapruder abbiamo fatto un numero speciale lo trovate al nostro banchetto questo è il momento Giorgio Mastrota quindi al nostro banchetto avete setigrafie Zapruder il fumetto però io volevo almeno visto che nessuno di voi ha curiosità da chiedere ai nostri autori e via dicendo lascio la parola no volevo dire che hai dei riferimenti culturali un po' vecchi vabbè io adesso comunque non posso dire di avere 37 anni come dice Michele nonostante siete l'83 lascio è che io li conosco ma non so raccontate allora l'altro progetto che abbiamo portato avanti è un documentario che presenteremo anche qui a Bologna dopo la prima Genova nel 20 quindi io tolgo il disturbo ti lascio il microfono senza cosa che questo è il mio è pulito per un attimo che c'è una domanda guarda ti interrompo un attimo scusami ti chiedo di avvicinarti al microfono qui per la domanda ripeti quello chi è no no però in Cile ti tiravano di sotto dagli aerei è una cosa un pochettino diversa ma non vogliamo non facciamo i paragoni dei drammi che non si va da nessuna parte e comunque a nostro avviso il mandante non era Gianfranco Fini però scusa non è che non l'abbiamo citato perché abbiamo qualcosa da nascondere non la pensiamo come te ce lo consenti o no ce lo consenti o no che non la pensiamo come te che non c'era un mandante non c'era nessun complotto ma ma no veramente è un po' più articolato allora c'hai ragione che te devo dire non è così è un po' più articolato perché casomai la piazza ci stanno anche i ministri degli interni ci stanno una roba un po' più articolata se poi per te il mandante era fini e te la risolvi così bella per te mica adesso a dire il contrario non te voglio convincere il contrario per me non è così per noi non è così punto allora sì sì ma io non volevo rispondere volevo solo invitare appunto a fare le domande al microfono ok provo a fare una domanda anche se penso che il motivo per cui anche non si fanno domande è che insomma c'è tanta gente quindi è anche difficile però quando stiamo parlando prima mi stavo stavamo chiedendo con un'amica qual è cioè qual è il pezzo un pezzo mancante ogni volta in cui parliamo di Genova o anche prima si parlavano dei pestaggi a Santa Maria Capovetere ed è la polizia ragazzi è la polizia nel senso che noi siamo stati costretti a difenderci no perché il discorso dentro cui dovevamo muoverci era quello delle accuse che venivano fatte quindi sempre al centro del discorso c'è il movimento quello che è stato fatto o le violenze che abbiamo subito però quello che non è stato messo al centro è un discorso sulla polizia sulle storture della polizia che sono d'accordo con quello che si diceva no non è un'eccezione no che non è un'eccezione ma è un sistema ed è l'organizzazione stessa della polizia che però non è mai arrivata al centro dell'analisi ma anche perché non c'è ricerca sulla polizia quindi non sappiamo veramente come come funziona e quali sono le storture e i problemi strutturali proprio di questa di questa istituzione che forse una tattica potrebbe anche essere quella di cazzo metterla al centro anche cioè inserirla nei discorsi che facciamo ma anche proprio con quella che è la cultura di polizia che è l'omertà che è quello spirito di corpo che sono anche tutte le cose che vediamo e che si riproducono nelle violenze che ci sono state in quello che succede in carcere in quello che succede in piazza nell'ordine pubblico quindi ecco era un po' un invito un'altra un'altra lente da inserire nel momento in cui parliamo di Genova ci sono altri interventi ci sono altri interventi posso? posso? c'è anche un paio di amici lì sul tavolo a me interessa un po' la questione del noi quando parliamo del noi noi che eravamo a Genova noi che non c'eravamo però noi ci volevamo essere stati il nostro aspetto intimista che c'era non c'era dietro di voi vedo un grandissimo tronco di albero gigante e mi viene in mente Genova e tutto quello che è successo dopo e mi rendo conto che in qualche modo quello che siamo diventati è un grande albero che però poi ha iniziato a litigare fra i rami o a litigare o comunque a dire vabbè io mi trovo la mia soluzione personale per uscire da questa situazione questa situazione qui si chiama il capitalismo che non lo stiamo neanche nominando ci diramiamo su vari rami ovviamente sono tutte lotte ultra legittime e ultra specifiche che però negli ultimi vent'anni abbiamo talmente tanto messo nel particolare che ci siamo dimenticati del tronco che le univa che a Genova era tutto insieme e poi nel frattempo lo stanno segando dalla base mentre stanno segando dalla base questo tronco qua noi siamo qui che un po' facciamo i nostalgici un po' ce la riraccontiamo io adesso volevo sapere di tutta questa platea quante persone effettivamente sono venute qui perché non sanno davvero cos'è successo a Genova e se lo volevano far raccontare non dai media tradizionali ma da una roba nostra e secondo me non è che dovevamo raccontare Genova però dovevamo un attimo anche un attimo dire quello che è successo a Genova c'entra un sacco con quello che succede oggi la morte di Adil c'entra con quello che rivendicavamo in piazza Genova le lotte che facciamo adesso sono le stesse mentre nel 68 c'erano delle lotte ma nell'88 vent'anni dopo forse erano un po' lontane vent'anni nel 77 le lotte e nel 97 forse si erano un po' decentrate nel 2001 e nel 2021 sono le stesse anzi nel 2021 abbiamo la prova che a Genova ci avevamo ragione quindi boh se posso dire giusto due cose sulle ultime parole tue anche prima che ho sentito sono queste penso che ognuno si debba prendere le responsabilità di tutto quello che fa nella vita di tutto quello che dice eccetera eccetera questo tronco di cui tu parli e mi ricollego anche alla questione prima eccetera non è che ce l'ha segato qualcuno si è segato da solo nel momento in cui dopo Genova l'unica discussione che si è riusciti a mettere in piedi o quasi l'unica all'interno del movimento è stata su chi era stato più stronzo e chi era stato meno stronzo chi era stato più cattivo chi era stato meno cattivo e sulla violenza e la non violenza e non mi sembra che ci siano state se non in situazioni veramente abbastanza piccole delle sollevazioni incredibili per come solidarietà nei confronti di chi era rimasto schiacciato all'interno di un ingranaggio eccetera tutto questo è stato abbastanza minoritario né c'è stata un'analisi reale a livello importante di massa su quella che era la devastazione del reato di devastazione nel senso che utilizzare un reato come devastazione e saccheggio e qui mi rifaccio all'ultima cosa che hai detto sulla quale invece sono molto d'accordo è una roba che da Genova si riverbera tuttora sull'oggi questo sicuro perché il reato di devastazione e saccheggio io scusate non ci sono stata durante la serata perché ho fatto una serata uguale ma con un altro spazio a Cesena sempre su questi argomenti in call proprio perché abbiamo messo tanta carne al fuoco tanta carne al fuoco noi l'abbiamo messa perché ci interessava parlare dell'oggi e parlare alle persone di oggi e a chi fa delle lotte oggi tant'è che tra le tante varie cose che abbiamo fatto negli anni e che abbiamo rimesso in piedi anche quest'anno è stato partecipare a un'edizione con l'associazione Guidetti Serra e Mutuo Soccorso di Bologna di un paio di anni fa se non erro forse tre ma il covid mi confonde di un manuale di autodifesa legale del quale quest'anno abbiamo comunque tirato fuori un piccolissimo aggiornamento molto schematico ma molto utile del quale tra l'altro devo ringraziare l'avvocato Ronchi di Bologna che se l'è fatto in totale solitudine e grande sbattimento personale che serve esattamente a questo cioè a cercare di fare le cose che si vogliono fare senza per questo finire completamente nelle mani di un ingranaggio che è stato veramente devastante ecco questo sì quello che a me interessa che in questo momento ha senso secondo me che a me interessa è che ha senso raccontare di Genova per spostarla poi fino all'oggi ed è questo il motivo per cui in qualche modo noi ci siamo messi a mettere appunto tanta carne al fuoco e a fare tante cose ultima tra queste è appunto anche questo documentario che porteremo il 20 per la prima volta a Genova dove ci sarà una prima diciamo nazionale che racconta proprio la storia di supporto legale che ha anche però un prequel su Genova perché ci siamo posti il problema di chi non sapeva che cos'era successo a Genova dopodiché penso che ognuno che è stato a Genova abbia la sua visione personale eccetera io personalmente non ho certezze su tutte le precise responsabilità eccetera eccetera ho parecchie certezze invece su poi quello che è effettivamente successo che non sono solo le violenze che non sono solo i pestaggi che erano anche tanti diversi e variegati tentativi di protesta e di azione che sono stati diciamo questi si recisi alla base nel più breve tempo possibile in modo tale che non potessero in qualche modo svilupparsi questo quello che volevo dire ci sono altre domande c'è Valerio che vuole fare una domanda non proprio non proprio una domanda però credo che alcune cose che sono state dette negli interventi prima meritano anche delle risposte e mi voglio sforzare per tentare di darle perché queste iniziative che abbiamo deciso di mettere in piedi lo diceva Giulia nel suo intervento all'inizio come centro di documentazione dei movimenti erano tese a raccontare Genova per quanto riguarda i contenuti e queste cose sono uscite in maniera abbastanza netta l'esempio che faceva prima il compagno sull'uccisione di Adil ci sta tutto in questo tipo di ragionamento le multinazionali della logistica cominciarono a vedersi nelle prime volte proprio in quel periodo e quello che hanno prodotto in questi anni sotto gli occhi di tutti sia a livello di generalizzazione di precarietà sul lavoro e sulla vita sia come sistema anche di distribuzione delle merci e come tentativo di coinvolgere le persone in modelli di organizzazione di vita assolutamente allucinanti e quando a Genova si parlava allora contro la privatizzazione dei brevetti è un tema che oggi ancora è molto attuale rispetto appunto alla questione del covid il discorso dei migranti quindi sono obiettivi che sono ancora tutti all'ordine del giorno e hanno una estrema attualità c'è anche un ragionamento che va fatto secondo me come lo Stato rispose a questo tipo di istanze e questo è qualcosa di diverso rispetto anche a situazioni che si sono determinate in altri luoghi dove la contestazione alla globalizzazione erano venuti da Praga a Nizza a Gothenburg lo dico perché io partecipai a quasi tutte queste iniziative e a Genova ho visto qualcosa di diverso nel senso che la polizia come è stata utilizzata è stato qualcosa di diverso di più chi ha fatto violenza sulle persone in quelle giornate non sono stati i manifestanti di qualsiasi tipo di qualsiasi tuta o di qualsiasi colore dei loro vestiti sono state le forze dell'ordine che hanno dispiegato un livello di violenza mai visto e questa cosa ha condizionato tantissime persone soprattutto ragazzi giovani che c'erano perché io mi ricordo i volti di quei ragazzi quando eravamo in stazione a Brigno le aspettare i treni che non partivano e c'erano gli elicotteri che giravano sopra di noi e c'erano i carabinieri che arrivavano dentro per provocare e poi era arrivata la notizia della Dias queste cose qua hanno influito anche nel futuro pesantemente e noi dobbiamo fare conto la polizia rivendicò quel tipo di situazione c'è un episodio che è legato a questa città un sindacato di polizia di questa città fece stampare delle magliette dopo Genova dove c'era stampato sopra l'anfibio di un poliziotto che schiacciava la testa di un manifestante e sotto c'era scritto Genova G8 io c'ero quindi c'era una rivendicazione e quindi quelle truppe che risposero a un'esigenza di governo della situazione di un governo che all'epoca era di centrodestra ma il G8 aveva preparato il governo di centrosinistra quindi la responsabilità era identica e cambiava poco però avevano delle truppe che erano state addestrate appositamente per dare una risposta di quel tipo non si era mai visto che a una manifestazione di massa di 300.000 persone la polizia caricasse da tutti i punti dal cielo dal mare e non lasciasse nessuna via di sbocco anche per scappare perché anche chi tentava di scappare veniva massacrato il 21 luglio soltanto per un caso non c'è stata una strage perché i manifestanti tutti 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 ripeto tutti ebbero un senso di responsabilità con tutte le modalità che utilizzarono perché altrimenti poteva essere una strage persone che potevano essere schiacciate allora queste cose è bene raccontare perché non sono sparite perché sono le abbiamo viste negli anni successivi a vari livelli l'abbiamo visto con l'ultimo Bolzanetto l'abbiamo rivisto con Santa Maria Capavetere recentemente ma così è successo tante altre volte e gli omicidi che sono avvenuti di Cucche di Aldrovandi così non hanno prodotto dei cambiamenti hanno riprodotto situazioni simili sempre più spesso allora questo tema è un tema che secondo me va occorre continuare a denunciarlo perché prima di Genova c'era qualcuno che diceva che c'era stato un processo di democratizzazione delle forze dell'ordine che sempre più era evidente che la polizia era vicino al cittadino a Genova abbiamo visto completamente il contrario che questo processo non c'era stato anzi semmai c'era stato un processo di fascistizzazione perché i poliziotti che cantavano facetta nera o che facevano inginocchiare i manifestanti e gli volevano dire via valduce tutta questa serie di cose sono cose che comunque hanno segnato una generazione di militanti e noi queste cose le dobbiamo tenere bene in mente se vogliamo riallacciare rapporti con le giovani generazioni e quindi chi come me ha partecipato ha una forte responsabilità di trasmettere questi livelli di memoria che secondo me sono fondamentali perché se non lo raccontiamo noi se non raccontiamo a livello partigiano quello che è avvenuto la memoria condivisa che ci vogliono imporre periodicamente queste cose le vuole cancellare noi queste cose non possiamo farle cancellare ho una cosa in comune con Michele che è quella di aver scritto sul giornale che si chiamava Carta che era un supplemento prima del manifesto poi diventato un settimanale autonomo e c'è una cosa che in questi anni ho spesso citato che ha scritto una volta Michele mi ha sempre fatto ridere che lui ha sempre scritto e pubblicato fumetti su fanzine che poi chiudevano Carta è una di queste questo perché a mio modo visto che io a Genova c'ero e condivido molte delle cose che ha detto Valerio ho cercato di fare in modo che la memoria di quei giorni insomma non si perdesse Carta ha cercato di fare questa cosa l'hanno fatto anche altre riviste altre pubblicazioni che adesso magari non ci sono più però che cosa poi è rimasto di questa cosa è rimasto poi i testimoni di chi comunque quelle cose le ha fatte vivere e non ha mai smesso di portare avanti quelle stanze mi piacerebbe ragionare su una suggestione che penso da un po' rispetto al fumetto io non sono mai stato un fumettaro io scrivo su carta e Michele faceva i fumetti però secondo me la cosa bella delle pubblicazioni che ci sono state in quel periodo è che noi da quei momenti tiravamo gli aspetti più importanti più salienti c'erano i dossier le inchieste c'erano molti video non c'è stata manifestazione così riprodotta in termini di video e fotografie come è stato il G8 di Genova io non so quante volte sono andato in giro per l'Italia a presentare Genova per noi soprattutto aggiornamenti numero uno di Indy Media ma a un certo punto ho capito che non era più la cosa che bisognava fare nel senso che a un certo punto l'informazione era fin troppa c'è una compagna che una volta mi ha detto non ci dobbiamo adeguare al porno riot a continuare a vedere queste scene cruente violente perché in fondo la violenza è lo stato quotidiano che viviamo tutti quanti noi nelle nostre esistenze personali e questo non fa altro che al massimo conclamare questo aspetto ho capito una cosa dai fumetti perché se ne è occupato anche un mio caro amico che è Francesco Barilli quando ha fatto un fumetto su Carlo Giuliani Ribelle di Genova perché ha una particolarità rispetto alla fotografia e al video la fotografia e il video pretende di essere oggettivo perché siccome è la rappresentazione più nitida più vivida della realtà le persone ci possono per forza credere pensate soltanto alla scena di Carlo con l'estintore che siccome viene presa da dietro nell'effetto schiacciante per molto tempo e continuerà e lo sentiremo anche in questo ventennale un pezzo consistente del paese pensa davvero che Carlo sia davvero vicino al carabiniere e gli lo stia lanciando quando poi nell'evidenza dei fatti è più di tre metri e un corpo esile come Carlo neanche se fosse stato un atleta olimpionico l'avrebbe potuto schiacciare però quella è stata la verità e quella era una foto oggettiva a cui anche gli altri l'hanno utilizzata per dire queste cose invece il fumetto e il racconto quello che facevamo noi su tutte queste pubblicazioni l'altro racconto quello che c'era dietro quello dei manifestanti era la cosa che cercava di dare fuori la bellezza delle cose la bellezza dell'andare nelle manifestazioni la bellezza delle cose che dicevamo la bellezza è l'urgenza l'importanza la cosa che dicono agli assalti frontali i ragazzi pazzi di speranza e non gli uccidi il sole se gli spari addosso e questa cosa qua l'ho vista molto spesso anche nel modo in cui Michele rappresenta per esempio le teste dei cortei dove non ci sono mai ragazzi per forza ingrugniti o facce sono anche molto spesso facce sorridenti ho sempre pensato che chi si occupa di queste cose qua chi si occupa del racconto doveva fare esattamente questo lavoro qui allora la suggestione del fumetto quando ho cominciato a leggere i fumetti l'ho fatto dopo il G8 di Genova è il fatto di poter mettere insieme tutti questi punti l'informazione sul G8 noi ne abbiamo fin troppa abbiamo bisogno di conoscenza di mettere insieme i punti di stabilire quali sono i punti che da vent'anni a questa parte collegano tutte le cose che abbiamo visto e le trasportano direttamente nel futuro a cui stiamo guardando è la cosa più importante secondo me dobbiamo fare per rispettare anche come dire il motivo per cui 300.000 persone erano al Genova quel giorno e posso anche dire non credo che torneranno quest'anno ma sono abbastanza sicuro che tutti quanti abbiano coscienza dell'importanza delle cose che sono state fatte in quel momento lì Valerio ha ragione su un punto delle persone che sono rimaste traumatizzate io me ne sono reso conto andando in giro quando mandavo la proiezione di Genova per noi di aggiornamenti numero uno e semplicemente uscivo fuori dalla sala non avevo voglia di vedere per l'anissima volta il porno riot ma c'era sempre qualcuno che mi si avvicinava per dire io poi in manifestazione non ci sono andato più io quando vedevo un defender dei carabinieri semplicemente perché era per strada e faceva il cosiddetto ordine pubblico cambiavo strada perché non ne volevo più vedere ecco secondo me la cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è riportare al senso delle cose perché 300.000 persone erano lì e la bellezza delle immagini che abbiamo visto perché è la cosa più bella che secondo me ci possiamo tramandare per un futuro nel quale anche in questo ultimo anno tutto quello che abbiamo vissuto ci racconta tutta altra immagine grazie al sistema di merda neoliberista nel quale siamo tutti quanti immersi grazie io ci tengo molto a puntualizzare una cosa perché ripeto magari me la sono persa io perché ero altrove il resto della serata supporto legale si è occupato sicuramente con grandissima passione e solidarietà e fraternità del processo ai 25 perché c'erano 25 compagni coinvolti si è occupato comunque ugualmente anche dei processi alle forze dell'ordine supporto legale con i suoi consulenti all'interno della segreteria legale e ovviamente lavorando anche insieme agli avvocati e su tutti i materiali della procura è quello che ha trovato i frame che dimostravano che le molotov dentro la diaz erano state portate da un poliziotto supporto legale è stato quello che comunque ha in qualche modo fatto sì che una cosa che tutti avevano visto evidentemente durante le giornate di Genova sia diventata anche una verità processuale e cioè che le forze dell'ordine hanno pestato con tutto quello con cui che trovavano a casa propria e per strada probabilmente cioè spranghe bastoni eccetera eccetera e che hanno portato avanti le proprie giornate diciamo così per non andare in un'analisi più profonda tirando anche pietre e roba del genere sui manifestanti e mentendo in maniera spudorata detto questo per noi sicuramente la cosa più importante in assoluto era portare a casa tenere fuori dalle galere quelle 25 persone lo era perché loro erano dei compagni perché si era partiti insieme e bisognava tornare insieme e questa responsabilità bisognava prendersela tutti quella di tornare tutti insieme purtroppo non posso dire che sia una responsabilità che tutti i 300.000 si sono sentiti di prendere molti sì per fortuna però detto questo per noi questo era il punto più importante e per me questo è un punto importante perché appunto come dire mi aspetto che la polizia non sia civile non so quanti di voi si aspettino che la polizia sia civile io non me l'aspetto nessuno di noi se l'è mai aspettato sappiamo perfettamente quello che succede fuori e dentro le caserme lo sapevamo prima e lo sappiamo adesso Genova è sicuramente stato un apice e in qualche modo una roba molto molto particolare ma non è che dentro le caserme si stia bene Aldrovandi è morto sotto i colpi della polizia dopo Genova Cucchi è morto sotto i colpi della polizia dopo Genova e tutta questa e c'è un sacco di altra gente che è probabilmente Uva e possiamo fare duemila altri nomi perché alcuni di noi poi sono passati anche in Accad tra l'altro e si sono studiati anche questa roba qui oltre a quella di Genova Genova è andata molto 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 sotto i riflettori ed è chiaramente come dire un macroevento ma ci sono stati miriadi di microeventi che non sono mai andati sotto i riflettori perché a essere massacrati pestati e ammazzati non erano dei ragazzi che facevano parte della meglio società se volete in qualche modo e con questo non sto dicendo figli di papà attenzione sto dicendo persone che facevano parte della tra virgolette meglio società che venivano anche dall'estero che venivano dall'Italia che venivano con le suore con le parrocchie con gli insegnanti con i partiti da soli con i centri sociali tutti ok ma c'è un sacco di gente che è crepata sotto quel tallone lì nel silenzio e nel buio delle caserme e delle questure e delle strade e questa è una roba che non ci potremo mai dimenticare attenzione e sappiamo benissimo che è così io ci tenevo a dire questa roba perché come dire d'accordo Genova è stato un riflettore enorme però bisogna stare attenti sempre e se non mi aspetto sicuramente di trovare una polizia civile come non mi sarei mai aspettata di dover raccontare la nostra storia collettiva in un tribunale dove non avremmo mai voluto andare dove abbiamo deciso di andarci perché qualcun altro ci veniva trascinato non perché piaceva a noi nello stesso tempo invece mi sarei aspettata perché questo significa essere compagni trovarmi al fianco tutti quelli che erano a Genova tutti quei 300.000 e invece non ce li siamo trovati e per arrivare al presente ci tengo molto a dire questo una delle cose a cui noi abbiamo tenuto veramente tanto sia nelle pubblicazioni che abbiamo fatto quest'anno sia nel documentario dove una delle voci principali è una delle persone condannate a Genova beh io la voce di queste persone noi la voce di queste persone abbiamo voluto sentirla e l'abbiamo fatto senza come dire porre nessun tipo di limite perché pensiamo sinceramente che dopo dieci anni di galera puoi dire un po' il cazzo che vuoi e sarebbe necessario ascoltarli in ogni situazione nella situazione di Genova di quest'anno diciamo così ufficiale non c'è una voce di un condannato e questo mi fa pensare che non sia stata fatta realmente nessuna come dire reale riflessione su quello che è successo siamo rimasti ancora lì ha una riflessione un po' povera sarebbe ora di farla invece un po' più corposa secondo me grazie Marina ci sono altre domande? sì io volevo fare una domanda che in realtà si collega moltissimo a questa cosa che è sul discorso della responsabilità collettiva nel senso che vabbè è qualcosa che abbiamo sentito nominare anche a sproposito tantissimo nell'ultimo anno e mezzo di pandemia quella responsabilità collettiva abbiamo anche avuto molto la percezione di come sia qualcosa che socialmente diciamo in una società capitalista neoliberista non esiste è qualcosa che però a livello di movimenti politici conosciamo molto bene l'idea di responsabilità collettiva e anche la difficoltà di questa responsabilità collettiva penso che chiunque abbia fatto politica appunto nell'ultimo anno e mezzo si sia anche scontrata o scontrato con proprio la difficoltà di effettivamente in qualche modo trovare degli strumenti per elaborare questa responsabilità collettiva è capire come gestirla senza trovarsi bloccata o bloccato e quindi è una domanda un po' doppia cioè da una parte appunto nell'esperienza di supporto legale come si è creata questo senso di responsabilità collettiva qual è stato il processo per crearlo nel senso che comunque appunto io faccio parte di quella gente che aveva 5 anni quando c'è stato il T8 però cioè dai racconti di compagni e compagni erano in realtà molto diverse ho sentito compagni compagni queer compagni femministe compagni autonome compagni anarchiche che stavano al giotto erano realtà molto composite quindi anche come cioè come poi si è andata a creare questa cosa sicuramente con dei limiti perché appunto come si diceva c'è stato un grande rimosso rispetto anche alla rivendicazione di un certo tipo di scontro e di conflitto però che appunto in qualche modo si è creato sicuramente nell'esperienza di supporto legale nel fatto di decidere appunto di supportare tutte e tutti e tutto quindi da una parte come si è creato questo processo politico soprattutto nel momento cioè è facile vent'anni dopo forse dire è chiaro bisogna supportare tutte e tutti però meno facile farlo sul momento e dall'altra parte cioè come si racconta poi questo concetto di responsabilità collettiva nel senso che è qualcosa di veramente difficile da comunicare perché a livello mainstream sociale veramente mancano gli strumenti e penso che abbiamo avuto una percezione molto forte ed è anche qualcosa di complesso da raccontare nel momento in cui qualsiasi tipo di racconto è in qualche modo individuale quindi un po' questa cosa doppia qua sul processo politico e su come lo si comunica allora sulla questione del processo politico bisogna fare un passettino indietro e mettere in mezzo anche un altro grande attore che è Indymedia Indymedia è stato una network di comunicazione indipendente formato da persone di ogni tipo che si basava in realtà su un punto fondamentale che ha a che fare proprio con la responsabilità collettiva cioè sulla possibilità di pubblicare qualsiasi cosa sulla pagina di Indymedia senza nessun tipo di censura salvo una diciamo una policy che impediva di venivano cancellati i post razzisti sessisti fascisti e c'è insomma questo genere di roba qua che per noi era la base non ce la ponevamo neanche come problema diciamo ovviamente e non ce lo porremmo neanche adesso Indymedia quindi parte proprio da una come dire da un livello di presa di coscienza collettiva per il bene collettivo molto forte Indymedia è la Genova Indymedia è il network che rimanda in giro per praticamente tutto il mondo la maggior parte delle immagini non mainstream che vanno a rappresentare tutto quello che è successo a Genova chiaramente si trova come dire ad avere una funzione che è anche come dire è molto importante perché appunto manda in giro immagini che altrimenti non sarebbero mai arrivate dove dovevano arrivare nessuno avrebbe mai visto le immagini della Diaz le immagini della Diaz quelle che tutti conosciamo con le finestre in bianco e nero dove vedi solo la silhouette del poliziotto che mena sono state riprese da un attivista di Indymedia accolato sul tetto della scuola davanti in buona sostanza chiaramente tutto questo ha anche un discorso di come dire un po' doppio perché nel momento stesso in cui fai un video chiaramente dai una testimonianza ma nello stesso tempo mostri delle cose e chiaramente anche in quei video c'erano anche delle cose che poi era meglio come dire se non fossero mai uscite sarebbe stato meglio per le persone in sé però questo faceva parte in qualche modo del gioco e anche del fatto che ogni persona deve prendersi le responsabilità di se stesso quindi a Genova accade questa gigantesca operazione non coordinata ma perfetta di documentazione di queste giornate e quindi Indymedia diciamo ha una esplosione dopo le giornate di Genova continua a lavorare su Genova perché chiaramente è un contesto in cui si continua a lavorare sulla pubblicazione libera si continua a lavorare su tantissimi articoli su tante cose si continua a lavorare anche su l'argomento Genova a un certo punto Indymedia viene contattata da quella che era il GLF il General Legal Forum in buona sostanza con una richiesta d'aiuto perché la procura stava portando avanti le prime azioni che portavano avrebbero portato poi ai processi utilizzando in parte proprio quei video che erano girati così tanto in quei giorni in parte quelli in parte altri in parte video portati da gentili e solerti cittadini in parte video girati simpaticamente dalla rivista Diario cari compagni eccetera eccetera tutti girati alle procure per inguaiare la gente e tutto questo gigantesco materiale video chiaramente è un lavoro immane e quindi viene chiesto a Indymedia di creare un pool di persone che possono aiutare gli avvocati e Indymedia non ha avuto dei gran dubbi nel senso che secondo me è anche ovvio che è una situazione collettiva così grossa che parte proprio da un discorso di responsabilità dell'uno nei confronti di tutti chiaramente poi non può dare una risposta diversa da quella che è stata data sulla responsabilità collettiva siamo caduti tutti come pere dicendo va bene ok faremo questa cosa supporto legale nasce come progetto di Indymedia a un certo punto si stacca dalla nave madre perché i tempi dei processi necessitano tempi i meccanismi necessitano veramente delle decisioni molto più veloci molto più rapide di quelle che poteva assicurare un metodo assembleare orizzontale come quello di Indy ma rimane molto legato a Indymedia per quanto riguarda tutta la parte delle campagne della comunicazione della raccolta fondi eccetera eccetera quindi io penso proprio che come dire nel DNA di supporto legale la responsabilità collettiva parta proprio da questo dopodiché ti dico noi quando abbiamo cominciato eravamo veramente persone molto diverse perché in Indymedia c'erano persone molto diverse chi di noi è stato a Genova è stato in contesti differenti e magari non si sarebbe mai neanche incontrato noi ci siamo trovati uniti sul difendiamo tutti questo è stato proprio il nucleo forte che è andato avanti senza mai trovare un'incrinatura da parte di nessuno dentro di noi era proprio la base era proprio quella cosa lì era il fatto di portarsi a casa tutti gli altri era il fatto che nessuno di noi riusciva a pensare di guardarsi allo specchio la mattina sapendo che c'erano 25 persone che si rischiavano 10 anni di galera senza fare niente è stato proprio su questo che supporto legale è andato avanti e sulla questione della comunicazione ma anche qui per noi è stato comunicare quello che noi abbiamo comunicato per tutto il tempo per anni eccetera eccetera è stato proprio l'andamento dei processi che forse era anche la cosa più facile da comunicare e dove era più facile far capire dove si stava andando a parare quando noi raccontavamo quello che succedeva in aula veramente la gente rimaneva con due occhi così e questo è stato il modo più facile e più collettivo di comunicare farsi migliaia di serate in giro per l'Italia e anche l'Europa oggi siamo in un momento in cui comunque sono passati 20 anni per tutti Indimedia alcuni di Indimedia hanno scritto un libro su Indimedia Indimedia stessa diciamo quantomeno le persone che ne facevano parte hanno rimesso in piedi un progetto super bello che si chiama Time Machine che vi consiglio di andarvi a guardare perché sostanzialmente su un canale Telegram perché per motivi tecnici è difficile che io non comprendo perché io e la informatica stiamo lontanissime però era troppo complicato farlo online però c'è un canale Telegram che si chiama Time Machine dove da adesso fino alla fine di luglio verranno fuori esattamente nella stessa come dire routine che c'è stata nel 2001 tutti i post che le persone hanno pubblicato appunto senza censure liberamente quindi ci leggi di tutto dalle puttanate a invece delle robe super interessanti a invece le infamità cose di questo tipo però ci leggi davvero tutto e puoi avere una come dire un quadro molto preciso di quello che era quel periodo lì sostanzialmente se tu domani alle 13.05 nel 2001 avevi pubblicato una cosa su Indimedia domani alle 13.05 sul canale Time Machine di Telegram te la ritrovi fuori e questo secondo me a livello di come dire vissuto è interessante da andarsi a riguardare molto interessante e tutto questo poi verrà anche presentato a Genova il 19 di luglio perché chiaramente è giusto è anche giusto prendersi dei momenti di riflessione collettiva per quanto riguarda noi pensiamo di aver messo tutto questo nel fumetto e in Zapruder e nel documentario in Zapruder comunque parlano tre dei condannati del G8 quelle voci lì per noi sono le voci in qualche modo della responsabilità collettiva il fatto che quelle voci lì siano con noi è il risultato della coscienza collettiva della responsabilità collettiva che ci abbiamo preso che ci siamo presi nel documentario c'è la voce di una di loro ed è un po' la stessa cosa credo che sia il modo migliore di raccontarla perché noi e loro alla fine siamo la stessa roba chiedo ci sono altre domande? c'è il ragazzo e poi sì allora io intanto questo intervento l'avrei voluto fare alla fine però vedo che gli interventi si fanno adesso quindi parlo adesso in realtà vorrei fare una domanda una domanda schifosamente egoistica cioè io ho prenotato il ho diciamo ho contribuito al crowdfunding e sto aspettando che mi arrivino il fumetto il fumetto e anche il numero di zap router e sono contento che non mi siano arrivati perché vuol dire che funziona e vuol dire che tanta gente lo sta comprando se non c'è modo di inviarlo a chi l'ha prenotato col crowdfunding però posso non ti è ancora arrivato se hai ordinato anche il fumetto perché il fumetto è proprio appena uscito sì sì certo cioè non è che siamo abbastanza sul pezzo no sì sì non voleva essere una critica assolutamente cioè era solo per dire che è una cosa bella cioè io Zapruder l'ho già visto l'ho letto anche in parte però ecco cioè rosico un po' che non ho la mia copia capito mi dà un po' però e vabbè questa era la domanda la considerazione invece era che io parlando del Gio io io sono non potevo essere a Genova per motivo una grafica ho sette anni quindi era un po' difficile e però quando ne parlo con i miei coetanei o quasi coetanei insomma mi accorgo che tanta gente non sa niente non sa non conosce proprio l'esistenza di quello che è stato cioè tu gli dici no e loro capiscono e quindi io provo a spiegarglielo un po' perché non ci sono stato però ho letto ho studiato insomma mi sono interessato parecchio però mentre io spiego mi sento un po' a disagio perché so che mi rendo conto che sto raccontando una storia che non è una storia a cui ho partecipato e quindi vi volevo ringraziare per questa serata per il fatto che per esempio c'è Samuele che è anche più giovane di me e che quindi dimostra che cioè si può parlare anche anche chi non ha vissuto direttamente in qualche modo può parlare raccontare e essere utile a non a fare memoria a stantia ma a essere a diciamo a essere una memoria vita in se stesso proprio pur non avendo vissuto quelle cose ecco solo questo volevo dire grazie mille perché è esattamente il motivo per cui abbiamo fatto tutto sto casino quest'anno onestamente il fatto di trasferire quello come dici tu una memoria attiva nel senso che poi a un certo punto la memoria deve diventare reazione deve diventare una cosa che ti fa fare delle cose nuove no se no è utile ma è utile fino a un certo punto quindi benvengano quelli come te grazie diciamo che possiamo chiudere se non ci sono interventi dal palco possiamo chiudere l'iniziativa ringrazio Samuele Francesco Alberto Zero Calcare supporto legale per aver partecipato e auguro una buona serata a tutte e a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti